eccomi di nuovo qua insieme a voi in mezzo alla natura perché come potete vedere mi sono bello fatto una bella passeggiata in mezzo al bosco bello sudato come si deve ovviamente eccomi di nuovo qua purtroppo c'è gente non voglio disturbare ovviamente perché sennò si inizia a parlare a caso dopo la gente pensa oddio cosa fai cioè lasciamo stare come dicevo oggi ho fatto una passeggiata ho fatto una bella passeggiata tranquilla in mezzo a questo bellissimo bosco appena finito di piove sono andato fuori cioè questa sopra questa bella area fresca mamma mia senza smog senza niente questi giorni in cui non c'è più pioggia si ha sapore una bell'aria di freschezza oggi vorrei parlare comunque anche di cose serie perché ovviamente il mio canale io faccio anche gameplay parlo anche un po di stronzate faccio ogni tanto video anche normali oltre che i soliti gameplay il mercato del lavoro che in italia purtroppo io lo dico già fa schifo fa completamente schifo prima di tutto i contratti contratti adesso oggigiorno durano quanto un mese tre mesi a tempo determinato part time cioè tu come fai a lavorare in un'azienda nuova in grande magazzino un gdo e pensare di creati una famiglia di comprarti un appartamento vabbè comprati affittati un appartamento o anche di una casa come fai cioè tu non hai garanzia per nulla su proprio per nulla su quanto puoi lavorare in un'azienda non hai garanzia non hai nulla cioè poi dopo ti propongono i contratti che ne so fai dalle 5 fino alle 9 per 800 euro al mese poi dopo devi contare anche i straordinari ovviamente che poi aumentano i soldi però arriviamo quanto a 1200 massimo 1300 euro ma non ci puoi vivere c'è ragazzi noi in italia pensiamo che 1300 euro siano addirittura un stipendio buono un stipendio alto per i nostri standard perché no è 1300 euro cioè sarebbero un casino di vecchi 1000 lire che vabbè lasciamo stare sui discorsi del cavolo però non ci puoi vivere non sono stipendio alto 1300 euro al mese e ho anche 800 euro c'è poi c'è anche di peggio perché c'è gente che ti offre un part time per sette giorni su sette per 600 euro al mese ma veramente succedono queste cose in italia e tu cosa faccia spacchi il culo cerchi di far il meglio possibile cerchi di essere una persona seria cerchi di essere professionale nel tuo lavoro nel tuo ambito io ho tanti un curriculum non è che oddio ho fatto chissà cosa ho fatto i classici lavori manuali il barista gdo fabbrica anche tour operator ho fatto dei lavori c'ho esperienza lavorativa e purtroppo io ho notato che non sono esperienze durature ok non sono esperienze che ti possono durare una vita adesso cioè tu entri in un posto al massimo io ho sentito gente che io posso durare anche un anno cioè posso durare uno o due anni poi dopo gli sbatton fuori ma perché i contratti devono essere nuovi le agenzie interlinali purtroppo cioè perché comunque le aziende si basano le agenzie interlinali le agenzie interlinali devono vendere sempre comunque contratti nuovi non possono stare quei contratti vecchi perché se no non ci guadagnano nulla assolutamente niente zero è per quello che c'è un turnover assurdo nelle aziende ok è per quello ok io posso farvi anche un esempio mio particolare che ho avuto esperienza lavorativa in un cash and carry io lì ci lavoravo bene ci lavoravo benissimo sotto agenzie interlinali ovviamente lo stipendio era buono gli erano comunque bellissimi c'è un orario buono che c'è tipo un'ora di pausa per il pranzo c'è comunque buoni orari non tornavo a casa distrutto ero comunque sempre attivo riuscivo comunque a lavorare bene anche a casa facendo anche le altre mie cose il problema è che queste aziende quelli con cui lavori non possono decidere loro che assumere perché io quando ho finito di lavorare da loro il mio contratto era già scaduto e loro mi volevano a luglio purtroppo il mio contratto è scaduto e l'agenzia interlinali non voleva rinnovare il contratto perché? perché le ditte per cui lavori hanno la sede centrale che non so a Padova per dire loro non sanno chi sei per loro se è un numero come qualsiasi altro quindi purtroppo il discorso è quello lì cioè tu lavori però tu non sai quanto puoi durare non lo sai è una cosa assurda poi che ne so io faccio i giri anche su Indeed europei tipo giusto per curiosità tipo su in Olanda cioè quello che ho fatto io in un mese in una GDO in un discount i stessi orari il stessi più o meno lavoro c'è lo stesso più o meno tipo di lavoro ti danno 2000 euro al mese cioè ragazzi c'è un problema c'è veramente un problema perché se io andassi in Olanda faccio l'esempio dell'Olanda può essere qualsiasi altro paese ho più diritti che in Italia cioè ho più diritti in Olanda è un paese del cavolo in nord Europa più piccolo dell'Italia che tu pensi che l'Italia è più grossa quindi magari c'ha più diritti no l'Olanda ha più diritti dell'Italia cioè anche in qualsiasi altro paese europeo cioè tu vai a lavorare in Olanda cioè hanno bisogno di mano d'opera e ti pagano il triplo che se no il quadro è proprio dell'Italia cioè è assurdo ma io non parlo di lavori speciali tipo l'informatica la robotica anche i lavapiatti lavorare in una fabbrica cioè anche in una ristorazione cioè è assurdo cioè la situazione in Italia è veramente assurda noi non abbiamo una legge che protegge veramente i lavoratori veramente non ce l'abbiamo cioè è un far west assurdo il mondo del lavoro italiano cioè tu ti può capitare un imprenditore bravo che ok ti paga venta i giusti contributi però quanti ce ne sono cioè c'è metà della possibilità che ti becchi un coglione che magari non sa fare neanche lui il suo lavoro però ti dà merda a te perché oddio se no va arrivato cioè non c'è l'investimento sulla cultura lavorativa non c'è l'investimento sul futuro del lavoratore cioè solo guadagna ora poi dopo tu vai a fanculo perché tanto c'è un'altra persona da sostituirti cioè è quello il discorso non ci sono mezzi termini a dire io bene o male c'ho comunque un lavoro che bene o male comunque riesco a vivere adesso comunque a sopravvivere però cioè se tu vuoi lavorare in Italia è impossibile cioè tu a meno che non trovi l'azienda bella che ti assume che ci sono io non nego che non ci siano aziende buone che ti assumano e che vedono il tuo valore io non voglio fare tutta l'erba un fascio ovviamente gli imprenditori non sono tutti cattivi e i lavoratori non sono tutti buoni ovviamente c'è il lavoratore pigro quello c'è sempre c'è sempre e c'è l'imprenditore buono il problema è che trovare un ambiente di lavoro sano un ambiente di lavoro non tossico è veramente difficile e figuratevi per le lavoratrici lì sarebbe un altro discorso da fare che lasciamo stare che lì ho sentito delle storie che sono da mamma mia ti distrugge l'animo a sentire certe storie comunque il problema è che secondo me in Italia serve una legge sul salario minimo una legge sul salario minimo che ti permetta di vivere altrimenti non andremo da nessuna parte così ho letto anche che non solo gli italiani c'è non è una cosa che guarda solo gli italiani anche gli stranieri che vengono qua a lavorare legalmente c'è loro non ce la fanno più lavorare qua non ce la fanno fare una casa una famiglia c'è non ce la fanno mica scappano nel nord Europa lo fan bene c'è cosa cacchio deve fare uno in questo paese per sopravvivare c'è deve aprirsi uno di fans cioè che cacchio deve fare cioè deve fare il clown su internet non lo so oppure deve diventare un politico cioè se tu vuoi lavorare legalmente per fare un lavoro decente non lo puoi fare cioè lo puoi fare però devi accettare il fatto che hai uno stipendio di base di merda quindi servirebbe un cambiamento epocale sul nostro tipo di lavoro cioè su come ragioniamo il tipo di lavoro che noi facciamo anche a livello culturale perché non si può ancora nel 2024 vedere gente che dice eh ma la tua età io facevo 12 ore in fabbrica senza pause e tu ti devi accontentare 200 euro al mese perché io da piccolo sono andato a lavorare è imparato dal maestro come lavorare come da un artigiano ragazzi non è più quel non sono più nei 70 non è che adesso siamo nel boom economico se tu all'epoca tu uscivi con l'attrezza media e andavi a lavorare avevi comunque uno stipendio che per mantenere te la tua famiglia e anche 5 figli adesso con uno stipendio normale non ce la fai è impossibile anche con due stipendi cioè la malapena di vivere a fine del mese cioè oltre per il fatto che le paghe sono basse e tu devi pagare che tu sia imprenditore o lavoratore più della metà del tuo stipendio in tasse e qua è il discorso in tasse completamente inutili quindi ragazzi io non so cosa dire speriamo che qualcosa si risolva perché veramente qua è una situazione è veramente snervante snervante perché magari tu ci puoi cercare di lavorare cercare di fare il tuo meglio però non ce la fai e non so che ti dà conto perché ti incula più del 50% del tuo quadernato in tasse quindi speriamo che cambino qualcosa ditemi cosa ne pensate voi mettete mi piace e il like e noi ci vediamo in un altro video un po' più tranquillo speriamo e che bella serata non so qual'altro dia ciao a tutti ciao a tutti